Buonasera a tutti, innanzitutto volevo augurarvi un buon anno, anche se queste feste le abbiamo trascorsi un po' tutti influenzati, come si sente, compreso me, che sto facendo cure di cortisoni, questo virus ci ha un po' rovinato le feste, ma tutto sommato siamo qui che abbiamo ripreso il lavoro, sia quello del lavoro professionale che quello politico. Questo messaggio ha lo scopo di chiarire sia l'aspetto politico che quello professionale. Perché? Perché ieri consigliere Peppe Scialla, consigliere di minoranza, ha lanciato una bomba mediatica, non avendo cose da dire sull'amministrazione, in merito a quest'incarico che ha preso questa società della comunicazione per il comune, società di comunicazione che non abbiamo mai avuto in cinque anni, quindi contro noi stessi, non avendo preso una società di comunicazione dall'inizio del mandato, ma quasi alla fine è una cosa che è venuta contro di noi. Questa società si occuperà della comunicazione per tre mesi, quattro mesi, prima che inizia la campagna elettorale. Noi avevamo già deciso come amministrazione di prendere una società di comunicazione il mese di marzo-aprile, ma purtroppo se non veniva approvato il bilancio che poi è stato approvato a dicembre, quella voce per quanto riguarda la comunicazione non potevamo utilizzarla. Quindi sappiate che tutti i comuni, lo spiego per chi non lo sapesse, che tutti i comuni hanno una società di comunicazione. Tant'è vero che quando si vincono alle elezioni, l'amministrazione decide di incaricare una società che si occuperà per i cinque anni totali della comunicazione del comune. Mentre noi avevamo come comunicazione soltanto una pagina Facebook dove venivano messi gli abisi, dove la gente veniva informata, non avendo altre pagine, quindi Instagram, Twitter, TikTok, eccetera. Questa società è stata presa per dire cosa è stato fatto, cosa si poteva fare e cosa non è stato fatto nell'arco dei cinque anni, perché molta gente tante cose non le sa, come il progetto della cittadella scolastica, finanziamento da 32 milioni di euro, siamo stati il secondo comune in Italia per finanziamento più alto e credo che l'amministrazione nostra sia l'unica amministrazione negli ultimi 30 anni avrebbe avuto un finanziamento così grande. Quindi tante cose, tanti cantieri che si apriranno a breve e quindi era giusto comunicare alle persone cosa di importante era stato fatto. Il consigliere Scialla, io vedete, premetto che non vado mai sul personale con i consiglieri di opposizione, perché poi tra l'altro ci conosciamo, con alcuni abbiamo fatto anche politica insieme, poi per varie cose, vari motivi ci siamo divisi, ma comunque usciti dai banchi del comune ci conosciamo e siamo amici. Però quando si tocca poi la professione e la persona, il lavoro è una cosa, la politica è un'altra. Politicamente uno può dire ciò che vuole, non siete stati bravi a fare questo, potevate fare questo, mi sta bene tutto, ma la professione no. Anche perché io non attaccherei mai un consigliere comunale per la propria professione, è una cosa scorretta. Ciò che non ha fatto il consigliere Scialla, che in un post scrive, dobbiamo sperare soltanto che il compenso erogato con fondi pubblici non serva anche a pagare una campagna pubblicitaria di un'agenzia immobiliare privata. E poi sotto ha messo il video, vergognatevi ho scritto e ha pubblicato il link dello spot dell'immobiliare. Credo che è una cosa più meschina e bassa di questa, ma attenzione, non mi tocca nel senso che è anche brutto dire detto da lui perché era un fatto politico e ci poteva prestare, ma la professione è come se io dicessi caro dottor Scialla, lei non sa fare il commercialista, ti sei pagato gli affitti del tuo studio con i soldi che ti dava il comune come assessore, potrei dire tante stupidaggini ma che non dico perché non c'entra la politica con la professione. E quindi purtroppo questo è stato oggetto di querela oggi. A lui e anche al giornale informale, un giornale del territorio, perché ha messo innanzitutto, ha scritto su un articolo che è pubblico, lo può leggere chiunque, con un avviso pubblico passato in Sordina, il comune di Cassiavoltuno ha affilato la comunicazione pubblica all'agenzia Foto e Malai, preciso che è stato fatto un bando pubblico, una manifestazione di interesse pubblica a tutti, quindi poteva partecipare chiunque, quando un giornale, un giornalista, non so chi sia, non lo conosco, ma secondo me è un ragazzo che sta facendo strada perché non è stato nemmeno consigliato bene, scriva con un avviso pubblico passato in Sordina, come si fanno le manifestazioni pubbliche? C'è tutto sul sito, quindi non vedo il senso, poi affida il tutto ad un'agenzia che cura già la comunicazione d'impresa di un consigliere comunale della maggioranza, Antonio Luisa, conosciuto per Crono del Castellano di 3.000 generazioni, questa è una battuta che fece il consiglio comunale ultimamente, perché ci sono consiglieri che vivono sul territorio e dicono che loro sono da generazioni che io non conosco, allora disse se voi siete consiglieri storici, io sono da 3.000 generazioni, ma fu una battuta più che alta, ma ho visto che il giornalista l'ha riportata in modo molto professionale. E detto questo, ha voluto lasciare un messaggio come questo affidamento è stato fatto perché questa società di comunicazione che apro e chiudo parentesi è una delle più importanti della campagna, la conoscono tutti, sia stata scelta perché faceva gli spot a me, sento che io pago e ringrazio e quando faccio una cosa non ne faccio tante, ma quando la faccio cerco di farla fatta bene, ho scelto sempre la società più importante che c'è per fare gli spot. Quindi sono cose un po' fastidiose perché poi alla fine la gente vuole parlare di politica, ecco la gente ancora oggi si domanda perché i ponti sono chiusi e quindi va data una spiegazione e verrà fatto ed è stata data anche dal sindico ultimamente, che cosa è stato fatto nei quattro anni e mezzo nonostante due anni e mezzo di covid, quindi finanziamenti, cantieri che si apriranno a breve, adesso lo posso dire, noi in questi mesi stiamo cercando di far rimanere il calcio Napoli sul territorio, quindi trovando un'aria per fare i campi con uno stadio dai 20.000 posti, stiamo facendo tanto, potrebbe essere poco, potrebbe essere nulla, ma lo sforzo è massimo, quindi mi dispiace di questo accaduto e mi dispiace anche soprattutto quando un ex assessore revocato dall'amministrazione, dal sindaco in questo caso, che ha fatto parte di questa amministrazione per quattro anni e mezzo, è un mio amico, ma ho capito che purtroppo dobbiamo scindere le due cose, quindi la politica e l'amicizia. Per quanto riguarda la politica, un assessore che ha fatto tutto quello che si può fare, un consigliere normale, insomma quello che ha fatto l'assessore Marandino parlo di incarichi, presidente del consiglio, vice sindaco, assessori, quattro anni e mezzo ha fatto di tutto e di più e credo che lui debba ringraziare questa amministrazione perché gli ha permesso di fare tanto e tutto, anche a volte invadendo deleghe di altri assessori, ma quando leggo poi dei post mi dispiace perché capisco la rabbia di essere stato revocato, ma è anche vero che lui insomma debba anche vedere cosa ha sbagliato perché il suo sogno da bambino l'abbiamo esaudito, che era quello di fare il presidente. Poi ha fatto il vice sindaco, poi ha fatto l'assessore di lavori pubblici e credo che lui una mossa abbia sbagliato, glielo dico proprio in modo amichevole, forse doveva dimostrare che quando gli era stata tolta la delega del vice sindaco, forse doveva andare via, là si doveva impurre, andava via e c'era una giustificazione a tutto questo, ma quando si fa parte di un'amministrazione per quattro anni e mezzo e poi si vuole tra virgolette sputare nel piatto dove si mangia, non è tanto una cosa bella, ma questo glielo dico da amico, non glielo dico da politico, ma lui lo sa perché glielo ho detto più volte, quindi ha fatto anche lui un'esperienza, ne farà tante altre sicuramente, però un consiglio che gli posso dare sia a sentire più il cuore che la gente che ti mette le cose in testa e poi ti fa sbagliare. Con questo non mi voglio dilungare più, ho dato le mie, non giustificazioni, le mie spiegazioni perché ci tenevo tanto perché si era toccata la mia professione e non permetto a nessuno di parlare della mia professione e del mio lavoro perché lo faccio con amore, con passione, dedico tanto tempo, tolgo tempo alla famiglia per fare il lavoro che faccio e quindi ci tenevo a dare delle spiegazioni. Mi dispiace purtroppo aver correlato sia il consiglio di Scialla che il giornale, ma mi era dovuto perché sono diffamazioni e sono stato obbligato. Con questo voglio augurarvi una buona serata e mi auguro e spero che da oggi in poi si possa fare un po' di politica seria e non queste pagliacciate che insomma servono a ben poco. Buona serata a tutti.